I tifosi troveranno Pietro Iemmello nella calza della Befana oppure no? Per ora l'attaccante del Frosinone La Calza se la tira come si suol dire quando una donna corteggiata non vuole cedere alle insistenze di un uomo e aspetta di ricevere un'offerta da qualche club di Serie B perché il Lega Pro non sembra proprio intenzionato a scendere, almeno al momento, poi chissà. Anche la formula è l'altro nodo da sciogliere, il club laziale insiste per perderlo a titolo definitivo con una clausola in caso di Serie B, quello erpino preferisce il prestito. Il Perugia invece ha sparato alto per Jacopo Murano, raffreddando gli entusiasmi di Di Somme e D'Agostino ed anche in questo caso la preferenza del giocatore per una squadra cadeta. Niente da fare invece per Leonardo Morosini, nonostante la voglia del giocatore di tornare in Irpinia per rimettersi in gioco e rescatare la maledetta annata del 2017-2018 quando si infortunò, la trattativa è finita visto il no secco da parte della Virtus Sentella. Capitole esterni, i nomi sul taccuino del DS Biancoverde sono diversi, tra questi c'è quello di Ludovico Dorazio della SPAL, 22 anni prossimo 19 febbraio, scuola Roma. Il calciatore, che può giocare sia a destra che a sinistra, non trova moltissimo spazio avendo collezionato solo 10 presenze, tra cui una in Coppa Italia. Il vero pallino però di Salvatore Di Somma resta Amato Ciciretti, epurato dal Pordenone in cerca di sistemazione. L'ex Benevento è l'elemento perfetto per le continue variazioni di modulo di Piero Braia, visto che si adatta sia come esterno che trequartista. Anche lui però, come Iemmello, si è visto poco in campo, solo otto presenze dall'inizio della stagione. Altro profilo che si tiene sotto osservazione è quello di Marco Frediani, classe 94, che si sta facendo notare come con la maglia della Fermana, 17 presenze e un gol finora.